Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andremo ad unboxare un bel po' di prodotti. Questa volta non si tratta di una bicicletta e non vedo l'ora di farvi vedere cosa sono andato ad acquistare. E se non lo fate ancora vi consiglio di iscrivervi al mio canale Telegram, Ciclismo Sconti, per approfittare anche voi di tutte le offerte che trovo all'interno del web. Difatti tutti i prodotti che vi mostrerò oggi sono stati acquistati proprio perché li ho visti direttamente tutti là. Quindi vi consiglio di andare a darci un'occhiata. E andiamo subito per vedere il primo pacco. Eccoci qua col primo petto all'interno. Dopo vediamo cosa c'è ancora qui dentro. Perché non c'è solo questa giacchetta, giacca Van Rysel, che ho trovato scontata da 49,99€ a 39,99€. Quindi da 50€ l'ho pagata a 40€. E per l'inverno, temperature non troppo basse, penso che sia perfetta, in abbinata ad una maglietta termica. Quindi vi consiglio di andarla acquistare anche voi. Ovviamente tutti i prodotti che andrò ad unboxare oggi li trovate qui sotto in descrizione. Perché sono tutti i prodotti scontati che vi consiglio di acquistare, soprattutto se lo trovate a questo prezzo che ho acquistato io. E vi consiglio di rimanere fino a fine video, perché soprattutto l'ultimo prodotto merita molto e l'ho acquistato ad un prezzo veramente molto basso rispetto a quello che si trovava fino a poco tempo fa. E vi consiglio, se siete tentati ad acquistare anche voi questo prodotto, di andarlo ad acquistare poi anche voi, prima che il prezzo si rialza. Ovviamente anche quello poi lo troverete qui sotto in descrizione. Secondo prodotto all'interno di questo sacchetto è una maglietta termica. Maglietta che anche qua ho trovato scontata da 27,99€ se non sbaglio a 21,99€. Comunque c'è stato uno sconto di qualche euro. E adesso che si stanno abbassando le temperature, penso che questa sia l'ideale da avere. In abbinata a quella che abbiamo visto prima blu, anche d'inverno si può sopravvivere tranquillamente al di fuori. E l'ultimo pezzo all'interno di questo sacchetto, prima di passare ai pezzi più grossi, è un'altra giacca. Questa non l'ho trovata scontata. Sta ad un prezzo di 69,99€. È per capirsi molto simile alla gabba a castelli. Quindi tiene molto anche il freddo, l'aria e anche l'acqua. Se dobbiamo andare sotto l'acqua siamo tranquilli con questa. Il bello è che si possono togliere le maniche. Facendo così poi abbiamo l'alternativa maniche corte oppure lasciamo la manica attaccata, fa tipo effetto manicotto, e abbiamo una giacca lunga. Questa la trovate in due colorazioni, sia la rossa, che è quella che ho preferito prendere io, e anche la gialla. E questo è un prodotto che vi consiglio da avere. Anche questa la trovate qui sotto in descrizione. Ed eccoci col primo dei due pacchi grandi. Andiamo ad unboxare questo pacco enorme. Cosa ci sarà mai all'interno di questo pacco? Andiamo solito a prendere il primo prodotto. Già da questo riuscite poi ad intuire quale sarà il prodotto che vi svelerò alla fine. È una semplice protezione da andare a mettere sul nostro manubrio per evitare che si sporchi da sudore. E adesso vi faccio vedere questo e capite già quale sarà il prodotto finale di questo unboxing. E andiamo a tirarlo fuori. È un tappetino molto molto bello che vi consiglio anche soprattutto per il prezzo che ha perché se andate ad acquistare tappetini per gli on-trainer non ne trovate di così economici con una qualità di questo tipo. Poi ve lo farò vedere disteso per terra e anche veramente molto bello perché in mezzo si trova il leone delle fiandre caratteristico del Mario Van Riesel e messo a terra fa veramente il suo effetto per un prezzo anche qua non molto alto di 34,99€ se non sbaglio e ve lo lascio ovviamente qui sotto in descrizione. Ed eccoci con l'ultimo pacco di giornata. Devo dirvi che è molto pesante e già dallo scotch penso che avete intuito di cosa si tratta. Stiamo parlando esattamente di lui Elite diretto XRT che ho trovato anche questo molto scontato perché l'ho pagato 679€ al posto di 8,50€ all'incirca quindi veramente un grande sconto. Adesso lo abbasso un attimo perché pesa un po'. Rulli che sono stati utilizzati moltissimo nella scorsa stagione dovuto al lockdown dovuto alle chiusure e quest'anno mi è venuta voglia di prenderlo direttamente anche a me. Poi andremo a scoprirlo direttamente assieme quindi sicuramente andremo a vedere come funziona come si comporta direttamente su tutte le piattaforme online sicuramente lo proverò su Zwift ma anche su Elite Training App che danno direttamente un anno gratuito al suo interno quando andate ad acquistare il rullo e non vedo l'ora di provarlo vi consiglio di andare a dare un'occhiata al mio canale Telegram per non perdervi tutti questi sconti quindi qui sotto in descrizione vi lascio il link al canale Telegram con il link a tutti i prodotti che sono andato ad unbuxare oggi e ora lo spacchettiamo per bene e poi andrò a creare direttamente la mia postazione per il rullo che vedrete direttamente nel prossimo video. Ok, qui all'interno abbiamo il caricatore all'interno sembra che abbiamo ovviamente i suoi adattatori abbiamo l'aggeggio per mettere direttamente la ruota anteriore e adesso non resta che andare a montarlo e questi sono tutti i prodotti che sono andato ad acquistare sia per la stagione fredda che sta arrivando che per la mia postazione home trainer e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale ad accenderla e campanellina per rimanere aggiornati sui tutti i prossimi video e se siete curiosi di sapere come funziona questo rullo vi consiglio di andare ad iscrivervi e se lo fate siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!